Sono con il professor Vittorio Sgarbi che adesso ci racconterà qualche cosa sulla sua ultima fatica letteraria nel nome del figlio, edito per la Bonpiani. Buonasera professore, benvenuto su HTO. La fatica è una metafora che è estranea a quelli che si occupano della bellezza, della letteratura, perché qualunque sforzo facciano è della direzione di quello che vogliono. Quindi non è una fatica ma è un sollievo come la meditazione e la contemplazione della bellezza. Nella fattispecie la storia dell'arte che io ho scelto come mio campo d'azione ha per gran parte delle cose che ho visto nel corso di più di 40 anni come tema prevalente il tema relegato alle immagini religiose e al Cristo. E allora ne ho tratto vantaggio per stabilire che alcuni valori etici si rispecchiano nell'arte che li conferma da un lato ma va addirittura oltre. Cioè un'opera d'arte può convincere e innalzare anche uno che non crede pur rappresentando Cristo. Il Cristo morto di Mantegna è come il Che Guevara della fotografia sul tavolo in cui fu posto dopo essere stato ucciso. E la capacità di commuoverci, di prenderci è legata al tema della vita e della morte indipendentemente dal fatto che uno creda o meno. Quindi il libro ribadisce questa potenza del Cristo come uomo e nella figura di uomo la capacità di avere cambiato il mondo facendo una rivoluzione che è quella per cui Cristo ha cambiato quello che il Padre aveva creato. E il senso del nome del figlio è proprio questa capacità di diventare uomo per vivere la vita degli uomini e portare gli uomini a essere più legati l'uno all'altro. Non homo homini lupus ma homo homini deus. Questo è il senso del libro. Questo suo saggio viene subito dopo un altro suo libro piena di grazia. In entrambi ci sono due versi di due preghiere, una Mariana e nell'altro il segno della croce. Come mai? Perché per stabilire rapidamente nel significato e nel titolo questa interpretazione dell'arte alla luce del cristianesimo occorreva fare, è chiaro che la formula piena di grazia è una formula meravigliosa, ma fa capo alla figura della Vergine. Quindi nel raccontare tanti quadri in cui la Vergine è protagonista, scegliere piena di grazia vuol dire indicare la sua natura di prima fra tutte le donne e questa grazia essere grazia divina ma anche grazia umana. Arte e religione. Sembrano essere complementari, ma si può amare l'una senza apprezzarne o capirne l'altra? Si può amare l'arte senza essere credenti, si può essere credenti senza amare l'arte. Cioè l'esperienza del credente è un'esperienza individuale, non è un'esperienza né collettiva né culturale. L'esperienza culturale è quella per cui appartengo a una comunità in cui i valori cristiani sono valori di comportamento etici, legati al matrimonio. Si sono legati ai comportamenti degli uomini, per cui il livello umano della religione è il dato più forte del cristianesimo. E allora uno può sentire Cristo senza credere in Dio e può guardare l'arte senza essere fedele e può essere fedele senza guardare l'arte. Nel suo saggio lei ha commentato opere che racchiudono un periodo di tempo di quasi 1500 anni, che va quindi a finire con la fine dell'Ottocento. Nel Novecento come mai non si è più parlato di Cristo? Se si è parlato perché così poco? Si smette di parlare di Cristo in un'epoca che è di profonda crisi e quindi non c'è più una visione del mondo che ha un'identità nella religione, ma ha una serie di altre suggestioni e stimoli che dalle avanguardie del Novecento in avanti anche all'arte tolgono il primato della figura di Cristo. Per cui l'arte del Novecento è un'arte che è, come dire, senza Dio, ma questo è un tema molto complesso e noi abbiamo comunque 1500 anni di arte cristiana che sono più che sufficienti, con la figura di Caravaggio, di Bernini, di Giotto, a intendere la forza dell'espressione artistica. Tema dominante, almeno per quanto posso dire a mio avviso, nella sua opera, nel suo saggio, è appunto questo Cristo che impegna le sue mani. Diciamo, si vedono soprattutto le sue mani, mani che spezzano il pane, mani che benedicono. Quindi, alla fine, un Cristo umano, l'umanità, umanità, che rende appunto il Cristo umano? Il tema delle mani è certamente un tema del linguaggio che comunica attraverso le mani e quindi potrebbe essere un altro libro. Cioè, cosa dicono le mani nelle opere d'arte e in questo senso le mani di Cristo dicono molte cose e tutte legate a una specie di apertura e di chiamata degli altri, quindi è una suggestione interessante. Nel libro me ne occupo parzialmente, ma certamente potrebbe essere il tema di un saggio. Mentre altri pittori, invece, spostano la loro attenzione sui piedi di Cristo. Questo va bene, insomma. Non è un argomento che si possa commentare, se non con riferimento all'espressività di una forza drammatica che anche nei piedi il Cristo, quando è crocifisso, manifesta. Professore, per concludere. Oggi, come ha detto anche lei precedentemente, il patrimonio culturale e artistico in Italia è molto vasto. Ma come mai la cultura in Italia non si fa cultura sulla cultura? No, si fa cultura sulla cultura, ma c'è una visione ancora parziale che la sensibilità individuale ha percepito, ma che non è ancora una scelta politica che consenta di salvare quello che abbiamo, facendolo diventare un valore anche economico, la cui integrità, vedere una casa del Settecento in rovina, certamente, è la dispersione di un valore anche materiale. Il valore materiale e il valore spirituale dovrebbero coincidere, non valendo l'uno contro l'altro, quindi sono valori, sì, purtroppo tutto quello, invece si puntano poi i soldi nella quantità di infrastrutture o di cose che hanno un significato molto marginale e che toglie bellezza e aura i luoghi. Progetti futuri? Si chiamerà il tesoro d'Italia e riguarderà appunto il valore materiale del patrimonio artistico.